Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia e un sogno. Siamo sul ponte che collega la terraferma all'isola di Ortigia, centro storico. della città di Siracusa. Inizia l'iscrizione di Siracusa. Inizia l'isola. Inizia. Inizia l'isola. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.